Benvenuti ai nostri radioascoltatori, siamo nella Galleria d'Arte di David Duca. Ciao David! Ciao a tutti! Allora, questa mostra al tempo di un temporale. Come nasce la tua passione per l'arte contemporanea? Allora, il titolo della mostra al tempo di un temporale è il titolo di vecchi scritti del passato, perché ho pubblicato anche due romanzi. La passione per l'arte è una passione ventennale, non è iniziata con l'arte contemporanea, ma con il figurativo, mentre da 5-6 anni sono approdato all'arte contemporanea. Senti, sei un'autodidatta, mi dicevi? Sì, sono un'autodidatta che comunque studia il passato, perché comunque l'arte nasce dal passato, si evolve dal passato, l'arte contemporanea nasce nei primi del Novecento. Posso citare Marcel Duchamp, Klein, eccetera. Quindi è uno studio, poi chiaramente ognuno è legato più a un artista che a un altro. Quanta creatività, parliamo in questi giorni tanto di creatività, siamo in piena Fabriano Maker City, Expo della creatività, quanta ne occorre per produrre un'opera d'arte? Ci vuole molta passione, la creatività nasce da un'ispirazione di un momento, quindi la ricerca assidua dell'ispirazione non porta mai a nulla, l'ispirazione nasce nei momenti più impensabili e quindi l'importante è saperla captare e metterla subito nella tela. Quanto c'è di autobiografico nelle tue opere? Ma ogni opera, anche se astratta, nasce da un'idea dell'artista. Purtroppo c'è ancora chi, di fronte a un'opera di arte contemporanea, al di là del piacere o meno l'opera, risponde a questo è buono anche mio figlio a farla. Questo è un accostamento errato di fronte all'arte contemporanea, l'arte contemporanea è ricerca e ogni cosa nasce da un pensiero. È chiaro che l'arte contemporanea non va mai spiegata, perché altrimenti non fai percepire all'osservatore le proprie sensazioni, lo indirizzi verso la tua ispirazione che potrebbe non essere la sua ispirazione, quindi lasci la possibilità di far pensare, di far volare le idee di chi lo osserva. Bene, David Duca aspetta tutti voi nei locali sotto l'arco del Podestà, la mostra al tempo di un temporale, visitate la Nevale, è veramente la pena. Grazie David. Grazie a tutti.